Vida con il numero 706 706, il nome di Spetsford della Germania con la Swash L'Università Oh, cazzo! 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 ha invaso la corsia ha invaso la corsia di destra è scontro tra Lancia Delta e Mercedes CLK vedete lo dichiarato il CLK guardate i tempi hanno sforato tutti e due 10.0 per Andrea 10.49 per Giannini ma cosa succede? regolamento dice che passa chi ha sforato il CLK partenza su due ruote troppo veloce per Vilde ancora 9.3 per il Vilde entrambi i piloti con tanta esperienza sono tutti tutti accesi che sono iniziamo la vettura successiva con il 9.23 e adesso qui abbiamo dalla Francia la metriamo in pavia la metriamo in transito come vedete 15 sui vieni la metriamo in pavia e il motore 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 passa Roberto Del Rio e qui abbiamo la parte dei Nostalgia Dragster che vedete qui a Riva Lanzano qualche problema in partenza per Teo il motore e il motore e qual'è il motore e con il motore avvenire il motore ov vedete qui nel motore Mentre Govoni un 10.56 Un 10.55 Un 10.75 Un 10.55 Un 10.55 Un 10.50 Un 10.55 Un 10.55 Un 10.55 Tento dichiarato per la Elf Camino 9.15 Sono alimentazione a protossido per la Elf Camino, avete visto che è missile 9.2 Su 9.15 Dalla Francia, Cedric Le Massage, su Ford Mustang Dalla Francia, Cedric Le Massage, su Ford Mustang E' un 10.95R183 KHz E' una volta qui a Chiaro Mette su scocca Ponte Agdel Ha sbagliato quello di là, ma ha sbagliato quello di là. Ha dichiarato? Anche qua dichiara un tempo di 9.39. Vediamo quanto si avvicina a 9.39. Quindi la Fiat.GV. 67. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Con la sua Chevrolet Nova del 69 Adesso siamo ancora in qualifica va bene, ma ha fatto... Vediamo i tempi 9.0 per Chicco, 8.37 per l'altra vettura Eh signori, questi sono i decante, vediamo Nei lanci precedenti Nei lanci precedenti Ora la partenza per Cassinelli, vediamo ora, 8.91, vediamo che tempo riesce a strappare 8.94, ottimo tempo, bene Vediamo 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 Grazie a tutti.